Estate 2023, una famiglia padovana è pronta per le vacanze estive. Oddio, abbiamo perso l'aereo! No, sono i vostri diritti. Ma non ha considerato una piccola cosa. Ho una terribile sensazione. Ma abbiamo fatto tutte le pratiche in tribunale? Sì. L'hai cresciuto per sei anni, no? Mi chiedo cosa ci siamo dimenticati. La procura! Felicia, l'era di Giorgia Meloni. Ma dove porterà il paese il partito che che noi abbiamo conosciuto come post-fascista? Dice che lei e il suo figlio spacciate. Siamo più la Repubblica delle Panamme. Infatti un sondaggio su cento ragazzi di morte. Sono le mie mamme. Devo difenderle. Dove è tua madre? Mia madre è lavoro. Tuo padre? Quale padre? Vuoi dire che sono divorziata? Certo che no. Fai il furbo. Assolutamente no. Non capisco. Non sei l'unico. La situazione è molto complessa. Ma che senso dai alla tua esistenza? A me non interessa di questo decreto. Io devo tornare da mio figlio. Io sono Giorgia! Coinvolge nella polemica politica. I bambini, io... Siamo genitore uno, genitore due. Se ti cago nel salotto. I bambini non si comprano. Ehi ragazzi! Fino a ieri aveva due mamme. Da oggi ne avrà una sola. Mamma ho perso i diritti. Non avrai mica due mamme. Ma si figuri? Siamo in Italia nel 2023. Secondo lei posso avere due mamme? Un governo per la famiglia senza la famiglia.